Porte aperte all'Emmaus di Boves per vacanze di Natale alternative e solidali. Dal 27 al 31 dicembre la comunità offre un'esperienza di volontariato rivolta a tutti. Sporcarsi le mani per aiutare gli altri, dicono da Emmaus, insieme a persone che tramite questo progetto hanno riscattato la loro vita da situazioni di disagio e di sofferenza, è un primo segno importante e tangibile di impegno credibile per un mondo più solidale e giusto. Proponiamo a dei volontari esterni di venire in comunità a vivere quella che è l'esperienza della comunità e vedere bene come funziona Emmaus, perché a volte lo si conosce un po' per altre cose, per il mercatino piuttosto per la raccolta eccetera, ma cosa c'è dietro non lo sappiamo, spesso non si sa, dietro c'è una comunità di vita che accoglie persone in difficoltà che tramite questa attività escono dall'assistenzialismo e aiutano altri che stanno nelle stesse condizioni e in condizioni peggiori. È un'occasione importante anche e soprattutto per degli amministratori, anche per le persone che hanno a cuore un po' il bene pubblico, perché si confrontino direttamente con le persone che hanno il disagio, soprattutto in questo periodo è molto importante, perché il disagio è molto dilagante, noi abbiamo continuamente le richieste di accoglienza. Possono partecipare sia i singoli che i gruppi di ogni età e provenienza, si recupererà materiale riutilizzabile che poi verrà risistemato e rivenduto nel mercatino di Emmaus e si parteciperà alla vita della comunità.